Buongiorno, sono Paola Raimondi. Per il Festival Internazionale della Poesia di Milano celebro la giornata di poesia 2020 con la lettura di una mia poesia. Un giorno. Un giorno ci riabbracceremo, di corsa la distanza sarà annullata. Un giorno. Ma ora che siamo arroccati, stretti stretti, tra le pareti delle case che ci chiudono, prigioni, un filo impercettibile e gentile ci lega tutti. La lato ermessa l'ha tracciato, né vento né paura lo recide. Un giorno ci riabbracceremo con occhi nuovi. Stupiremo le stagioni. La primavera sarà di fiore in fiore. Un giorno. Ma ora che guardiamo da finestre, da balconi, ci svegliamo al canto, al volo degli uccelli, alle geometriche canzoni delle stelle. Un giorno ci riabbracceremo nei passi sciolti, negli incontri vivi, nelle strette di mano, nei sorrisi. Un giorno. Ma ora è tempo di colloquiare da lontano per sentirsi vicini. E Arianna ha srotolato il filo che Teseo trasformerà in oro puro, in oro puro. Un giorno.